Dalla passione alla violenza il passo è stato breve e un uomo e una donna di Caltanissetta, anziché concludere in bellezza la serata di domenica, sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Sant'Elia, dopo essersele date di santa ragione. Una lite nel corso del loro tetta a tette è infatti degenerata in uno scambio di colpi proibiti, probabilmente per un eccesso di gelosia. La donna ha riportato contusioni ed escoriazioni al viso, tumefatto in alcuni punti, mentre l'uomo era ferito in maniera seria al labbro inferiore che risultava mutilato. Adesso sarà la polizia a ricostruire tutti i passaggi dell'accaduto, da capire se ci saranno conseguenze dal punto di vista penale per i due focosi amanti.